buongiorno a tutti benvenuti nel maver studio entriamo nel dettaglio e in questo momento vi faccio vedere il galleggiante appartenente alla serie mvr in particolare le mvr quercia questo galleggiante viene prodotto dalla misura 0 10 fino alla misura di un grammo come tutta la serie mvr è realizzato in rocce un particolare materiale che ci consente di effettuare un taglio verticale su tutta la superficie del corpo ci consente inoltre in caso di rotture accidentali sfregamenti o tagli di continuare l'azione di pesca in maniera impeccabile in quanto il galleggiante non beve assolutamente acqua la serie quercia la utilizziamo soprattutto per pescare sul fondo e a media lunga distanza in quanto la sua lunghezza abbastanza importante ci dà molta stabilità l'antenna cava di grosse dimensioni ci permette di utilizzare esche anche molto pesanti quali mais o pellet senza avere lo spiacevole inconveniente di vedere affogare l'antenna per il peso dell'esca io ve lo consiglio lo uso anche tanto un galleggiante pressoché indistruttibile perfetto per pescare in carpodromo sul fondo a media lunga distanza vi saluto ed ora passiamo al prossimo video